salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi modificheremo la freccia comfort cioè sarebbe il lampeggio dell'assistenza della visione della cambia del cambio corsia sull'autostrada che che significa il momento in cui andiamo a premere senza schiacciare forte la freccia sia a destra sia a sinistra la freccia lampeggerà per tre volte come standard noi questo lampeggio lo possiamo anche modificare da 1 fino a 5 volte e adesso vi farò vedere come questo qua vi aiuta che nel momento in cui noi stiamo sull'autostrada e andiamo solo a schiacciare così la freccia si attiverà per tre lampeggi o anche per uno per due per tre per quattro per cinque in base come adesso andiamo a impostare adesso andiamo a impostare da tre a cinque lampeggi vi farò vedere come questo qua vi aiuta nel momento in cui vi stavo dicendo siamo in autostrada senza mettere del tutto la freccia e quindi lasciare la freccia accesa durante tutto il tragitto e delle volte ci facciamo ce la dimentichiamo basta premere piano piano ci lampeggerà tre volte e farà capire chi ci segue che noi stiamo cambiando corsia per fare questa attivazione qua è semplicissimo adesso vi farò vedere come si fa come sempre abbiamo bisogno del nostro vcds collegato alla macchina tramite il cavo paga prima di effettuare una qualsiasi codifica come sempre vi consiglio di andare nelle centrali nella diciamo nella scansione tutta la macchina e andare a selezionare la macchina che in questo caso è un audi a1 una 8x 2015 e andiamo a fare la scannerizzazione di tutte le centraline io come sempre in questo caso già l'ho fatta prima così da non fare bene il video un po troppo lungo e quindi salto questa procedura qua voi nel momento in cui vi farà tutta la scansione vi uscirà qualche difetto qualche anomalia qualche problema andate in qua in cancella guasti confermate una volta fatto ciò usciamo usciamo andiamo in selezionare perfetto e ci darà tutte le centraline di cui abbiamo adesso scannerizzato abbiamo fatto la scansione andiamo nella centralina 09 questa qua questa volta non andiamo nella codifica ma in adattamento invece di andare nella codifica 07 adattamento 10 eccola qua andiamo vedete qua ci da un canale sopra qua c'è un menu a tendina con tutte le impostazioni ma per fare prima io vi darò direttamente il numero del canale così da andare a mettere il numero all'interno del canale in questo qua del 31 andiamo a fare leggere perfetto e automaticamente ucciderà ciò che noi interessa il comfort lampeggio delle frecce adesso come vi dicevo imposa tre lampeggi come abbiamo visto da tre abbiamo la possibilità di impostare da uno fino al massimo di cinque standard e tre noi adesso andiamo a fare andiamo a fare andiamo a impostare cancelliamo il 3 mettiamoci il valore nuovo 5 perfetto verificare ok salvare perfetto dice siete sicuri di diciamo di questo nuovo valore noi andiamo a fare sì ok giusto per controllo vi consiglio nuovamente di andare a leggere nuovamente il valore abbiamo appena immesso ecco qua ci dà nuovamente 5 perfetto andiamo a ritornare usciamo dalla centralina e andiamo a vedere il valore comunque l'abilitazione di questa codifica qua se è stata fatta per provare basta mettere non mettere ma basta fare un piccolo tocco della freccia così uno due tre quattro e cinque la codifica è stata effettuata vedete sia destra tre quattro e cinque e sia sinistra uno due tre quattro e cinque nel momento in cui noi andiamo a mettere la freccia la freccia funzionerà come il suo consuetudine funzionamento sia destra sia sinistra questo qua ci aiuta nel momento in cui andiamo solo a toccare così per spostarsi di corsia sull'autostrada o a destra o a sinistra così da avvertire chi ci segue dietro che stiamo svolgendo questa manovra ok ragazzi perfetto spero che questo video vi sia stato utile e come sempre vi consiglio di iscrivervi al canale attivate la campanella per ogni mio nuovo video ed essere sempre aggiornati sui miei video condividete il video e scrivete qualcosa nei commenti ok ciao ragazzi al prossimo video